Fate sentire il calore, il calore toscano che non si spingisce mai. Sulle note evocative del maestro Andrea Bocelli, andiamo a vincere. Grazie a tutti. 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 giorni, adesso in otto mesi li abbiamo fermati a quota 4.000 e nonostante questo stanno provando a tornare indietro. Avete visto la vicenda di queste ore? Peraltro raccontata in maniera indegna dalla stragrande maggioranza dei telegiornali, è per questo che io amo stare in mezzo a voi, amo stare in mezzo alle piazze e in mezzo alla gente, perché se uno deve informarsi guardando qualche TG o leggendo qualche giornale, campacavallo. Ebbene c'è questa nave spagnola di una ONG spagnola che era in acque internazionali, che ha detto fate scendere 13 persone perché stanno malissimo, le visitano e stanno benissimo. Ha detto fate scendere 27 perché sono minorenni, la metà sono maggiorenni. Ha detto dobbiamo sbarcare perché c'è un'emergenza sanitaria a bordo, sono saliti i medici, nessuna emergenza sanitaria a bordo, trova qualche giudice italiano compiacente, è una delle prime riforme che dovrà fare il prossimo governo la riforma della giustizia fondata sulla certezza della pena, sulla certezza della pena e chi sbaglia paga. Poi abbiamo visto che c'è andato Richard Gere, si vede che si annoiava, poi ovviamente ha preso una barca di diverse dimensioni ed è in giro per il Mediterraneo, però ognuno fa quello che vuole. Qualche ministro, mio collega, dice no però poverini ci vuole umanità, io dico non è umano aiutare i trafficanti di uomini, di donne, di morte. Questi sono trafficanti, gli scafisti sono trafficanti e le ONG, consapevoli o inconsapevoli, aiutano questo traffico di esseri umani. Ebbene il colmo è che dopo 17 giorni in cui un ministro ha tenuto duro e ha detto qua non sbarca nessuno, il governo spagnolo finalmente oggi dice Salvini è un delinquente quindi apriamo un porto spagnolo, la nave spagnola cosa dice? No in Spagna non ci vado, rimango qua in Italia. Ma vi rendete conto della folia? Anzi dice a meno che non carichiamo gli immigrati su una nave militare che li porta in Spagna. Aspetto di capire se il ministro della difesa italiano è sveglia o dorme per caricarli e portarli in Spagna domani mattina. Perché il ministro della difesa è pagato per difendere i confini di un paese, non per farli scavalcare i confini di un paese, teoricamente. Ma questo è solo uno degli esempi. Ragazzi ci aspetteranno giorni e settimane belli tosti impegnativi perché da una parte c'è il partito della poltrona. E leggevo che qualcuno dice che li metteranno insieme tutti. Oggi ho visto un'intervista di Prodi che disegnava questo governo PD, 5 Stelle e Forza Italia. Mamma mia! Mamma mia! Anche perché un governo PD, 5 Stelle, sulle tasse non oso immaginare che cosa possa fare. Sull'immigrazione, solo i ussoli, sulla... Grazie a tutti! A proposito, un bacione affettuoso ai dieci figli di papà con la bandiera rossa che c'erano in giro oggi per massa. Hanno fatto shopping, li ho visti. Domenica 19 agosto 2019, le notizie sono due. Forse c'è vita su Marte e ci sono ancora dei comunisti in Italia. Due notizie ci sono. Falce e Marte. Che tenerezza. Poi è bello che c'è... che si chiamano potere al popolo e partito democratico, ma non vogliono le elezioni. Perché poi i fascisti siamo noi. Quelli... e io ogni volta glielo dico qua non ci sono fascisti, qua ci sono italiani orgogliosi di essere italiani. Punto. Ed è la differenza tra gli uomini liberi e i servi. Vedremo nelle prossime giornate a Roma la differenza tra gli uomini liberi e i servi. Abbiamo visto a Bruxelles, sentivo qualcuno che si è messo d'accordo. Grazie. 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 Grazie a tutti. che può essere utile agli italiani, noi non abbiamo il paraocchi, a meno che qualcuno però lo dovrà dire, non tanto ai senatori ma davanti al popolo italiano già da tempo aveva deciso di far l'accordo con la sinistra e col partito democratico e allora lì la Lega non perdona, allora se c'è il tradimento nel nome delle poltrone e allora la Lega non perdona. Ma noi per carità in questi mesi quanti ne abbiamo andati giù? Quanti insulti? Ricordo Toninelli che ha detto che sono un nano. Io non mi vanto della mia statura né fisica né morale per carità di Dio, però adesso se dobbiamo aprire il dibattito, però va bene. Grazie. 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 però abbiamo visto i segni di riscossa Siena, Pistoia, Arezzo, Grosseto, Massa e Livorno mica tanta ancora signora Livorno ci vuole ancora un pochino però ci arriviamo, ci arriviamo, Pisa ho visto il sindaco arrivare in una città dove finalmente sgomberi dei campi rom che aspettano da 40 anni di essere sgomberati e finalmente, e finalmente con questi parassiti che campano alle spalle del prossimo pretendendo di avere solo diritti e senza rispettare un dovere che sia uno un dovere però non ne parlo male se no il governatore Rossi ci offenda e quindi, però ragazzi qua la cosa emozionante è che in queste settimane di ascolto perché da sinistra si lamentano ma Salvini è in giro Salvini oggi era in Versiglia e poi era Massa grazie a tutti 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 Stiamo vivendo una situazione incredibile. In cui siamo maggioranza nel Paese, perché siamo evidentemente maggioranza nel Paese e potremmo essere minoranza in Parlamento. Non farei mai a cambio. Non vorrei mai essere minoranza nel Paese, ma abusivamente maggioranza in Parlamento per tenermi la poltrona sotto il culo. Mi tengo stretti gli italiani e vi lascio le poltrone. Se amate tanto le vostre poltrone. E se avete dignità troviamoci a ottobre in cabina elettorale. E lasciammo che siano gli italiani a decidere chi deve governare questa terra per i prossimi cinque anni. Non quattro poltronari. Anche perché l'emergenza di questo Paese dalla prossima manovra economica è una. E forse su questo hanno avuto paura. Perché la Lega sarebbe riuscita a fare anche quelli. ... 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